dai da un metro pinta media eh frega un cazzo no cazzo provo più giusta anche quella di provare a cadere dall'altra parte che potrebbe essere una buona teoria ti si accorgia se uno ha una sega buttala a sinistra buttala 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 questa l'ho filmata tutta è stata bella ma le coppie sono belle a vedere fuori hai qualcosa da dichiarare forse cazzo non riesco a piegarla beh dai fare un 180 qua non è facile sono piantato da qualche parte con la perivella forse qua è che non riesco a tradurlo l'avevi fatta eh l'avevo visto cazzo buttala sinistradio bestia buttala vai fatta era fatta era fatta era fatta un'altra parte un'altra parte un'altra parte un'altra parte un'altra parte un'altra parte no il piede è il ganciato dio dai l'hai il ganciato ma dai un po' da culo però è fatta un'altra parte un'altra parte Grazie.